la pasta è stata inventata in italia e questo è un tema diciamo annoso in realtà perché se si va a vedere anche altre cucine la pasta magari fatta con cereali diversi però è assolutamente presente pensiamo alla cucina cinese anche quella giapponese quindi la pasta come come concept esiste anche in altre cucine in più c'è da aggiungere che quella che noi appunto consideriamo assolutamente tradizione italiana la pasta secca gli spaghetti i macchieroni probabilmente sono una importazione araba che dalla sicilia poi si è molto lentamente diffusa nel resto della penisola quindi anche sulle origini assolute anche su quello che proprio conosciamo come pasta italiana è probabile che ci sia una discendenza araba più che italiana autoctona però c'è chi dice che la pasta sia un elemento distintivo della cucina italiana già dal medioevo non è corretto nel senso che sicuramente in sicilia era molto diffuso il consumo del molto ovviamente per chi se lo poteva permettere come al solito però era abbastanza diffuso la la il consumo di pasta dalle altre parti no nella stessa napoli bisogna aspettare qualche secolo bisogna almeno il seicento il diciassettesimo secolo per vedere i napoletani trasformarsi da mangia foglie a mangia maccheroni allora spiegaci che cosa si intende per mangia foglie e poi come mangiavano i maccheroni i napoletani e allora mangia foglie perché a napoli si mangiava molta verdura in realtà che come abbiamo già detto siccome nelle città normalmente si mangiava più carne il fatto che i napoletani mangiassero molte verdure significava che l'economia di quella città era sostanzialmente differente da quella di tanti altri centri urbani quindi aveva questa caratteristica poi a un certo punto nel corso del diciassettesimo secolo diventano invece mangia maccheroni perché per una serie di questioni legate al fisco fondamentalmente quindi a una riduzione ulteriore del loro tenore di vita e quindi diventano più facilmente mangiatori di pasta ma la pasta a napoli fino all'ottocento ma direi anche fino al novecento inoltrato si mangia per strada e con le mani e si mangia in bianco fra l'altro quindi anche il pomodoro con pasta in bianco e direi proprio sì ma d'altro canto anche l'immagine classica di pulcinella che mangia con le mani guardando in alto no buttando serie maccheroni quelli che loro chiamano maccheroni che noi adesso oggi chiamiamo spaghetti ma erano tradizionalmente chiamati maccheroni è un'immagine classica della napoletanità ancora oggi fondamentalmente ma prima hai fatto un accenno alla pasta secca e qui si torna a un tema ricorrente delle nostre puntate l'importanza dell'america nella nostra cucina allora spiegaci cosa c'entra l'america con la pasta secca c'entra perché appunto come ho detto fino all'ottocento inizio novecento erano i siciliani e i napoletani che mangiavano la pasta nel resto d'Italia fondamentalmente era sconosciuta si mangiavano altre cose appunto come al solito al nord si mangiava polenta insomma si mangiavano erano altre le basi dell'alimentazione e questi italiani tutti gli italiani e in particolare quelli del nord vanno in america e in america incontrano napoletani e siciliani che normalmente in Italia non si incontravano mai e lì quindi in queste l'Ital Italy comincia a diffondersi il consumo di pasta che ha dei vantaggi è facilmente conservabile costa poco insomma ci sono tutta una serie di elementi che faranno sì che anche chi a casa sua in Italia non avrebbe mai consumato pasta poi invece la trova comoda e probabilmente anche gustosa da un certo punto di vista e quindi questo consumo diventa consumo nazionale degli italo-americani poi molti di questi come al solito tornano in Italia e quindi in Italia trovano la nostalgia della pasta e richiedono la pasta dunque le prime aziende industriali diciamo piccolo industriali sono fatte in America magari da italiani che fanno fortuna in America o da americani stessi e poi gli italiani tornano in Italia e mettono in piedi le prime aziende di pasta secca in Italia sostanzialmente assolutamente sì ci sono c'è molta casistica di queste industrie di pasta americane fatte da italiani o anche non da italiani che però richiamano in maniera esplicita c'è la pasta Garibaldi ci sono questi nomi qui che ovviamente fanno molto riferimento all'orgoglio nazionale e ci sono anche industrie italiane in Italia in particolare nella zona di Genova che lavorano quasi esclusivamente per il mercato americano la Buitoni stessa è una di quelle che lavora non esclusivamente ma in maniera molto molto forte per il mercato americano più che per il mercato interno che in quel momento non c'è ancora dunque sostanzialmente gli italiani quando tornano in Italia dopo essere immigrati dopo aver vissuto anni in America provano nostalgia per la pasta americana e soprattutto tu ci stai spiegando che gli italiani si conobbero maggiormente fra di loro tra nord e sud in America anziché in Italia assolutamente sì, la cucina nazionale, ammesso che si possa parlare di cucina nazionale nel caso dell'Italia nasce sicuramente in America dove appunto usanze diverse e diciamo tradizioni differenti si incontrano mentre invece in Italia non si sarebbero mai incontrate Ti è piaciuto questo assaggio? Ascolta la terza puntata della prima stagione di DOI, la pasta